buonasera allora adesso adesso con mia moglie da real chair davvero cuoca boss chair finalmente accetto il mio challenge what's the challenge qui allora lei già preparato tutto adesso cociniamo vogliamo preparare in bottini di carne bottini di carne perché non c'è la verdura quindi facciamo con un po di carne mista e poi con la cipolla sedano e dovrebbe essere anche carota però nel frigo non ce l'ho quindi facciamo con quello che ce l'abbiamo ok lo preparo per il loro pranzo per domani perché io devo lavorare pranzo domani preparo questo almeno lui quando ha la bolla di cucinare qualcosa lui questo ce l'ha già nel frigo che così almeno loro capisce anche quello come si chiama sign language prima di tutto ho tritato un po di sedano e adesso c'è la cipolla e prendi la carne poi piangere con il frigo presa no nel macellaio no scusa perché questo frigo non non è questo frigo di macinato mi ha scritto e macinato mi ha visto o non senza occhiali abbi pazienza senza occhiali no abbiamo bisogno delle uova aspetta non dobbiamo trattare più niente e deve farlo vedere guarda questo ragazzi questo è dove ci chiamo com'è peppe nero peppe nero sale serbe sale anche perché tocca a te perché misura un po di pepe nero faccio all'occhio questo serve no ah direttamente lì sì ah ok anzi aspetta mi poco sta adesso ho già aperto la busta prima mette così il triangolo perché è troppo grande non voglio fare troppo grande così grande dopo facciamo metà? non voglio fare mignon così quando friggiamo nel cangelatore si può stare nel frigo non più di due giorni un giorno dopo per cucinarla nel freezer si mette nel freezer anche due smessi lo puoi metterlo ah si? basta così aspetta giriamo la camera facciamo vedere per vedere così ancora uno guarda parte alla mamma così così amore oh quello è troppo va bene? basta basta e prossimo anno? è troppo amore è troppo non si cuoce bene perché? ma la mamma secondo me va bene dopo prossimo anno tu puoi partecipare a junior share e non voglio perché? ma posso partecipare anche adesso oh dai oh dai lo sai fare? guarda come l'ho fatto io ti piace mamma? non si fa così più come no? guarda guarda devi guardare prima a me la devi chiudere così e poi si deve piegare qua piegare qui e poi così e così la carne non esce nel lato oh dai oh dai o così metti qua quando hai fatto tre wow questo la devi chiudere per bene amore così oh si deve mettere un po' di acqua così così si chiudi per attaccare metti l'acqua guata 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 che significa? che significa? la mia testa dice guata 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 ma il mio cuore dice black specon black specon yes bravo sembra una patatina oh oh fammi vedere ma che cosa? devi spalmare un po' di più di là non la fai allungare no voglio fare io ok hai detto che faccio io quindi perché non oh acqua è per loro è vero acqua o se no metti attacca così attacca di più mettiamo la colla l'acqua si usa come la colla non si chiude eh come è? solo acqua e poi Sopi ah non va bene la devi chiuderla per bene per bene per bene guarda la mamma close it tight Sopi tight capito? spingi un po' oh oh si la mia testa dice così oh quando la metti qua la metti per così beh i miei sono uguali è soltanto che un pochino più basso poi ha detto la mamma deve chiudere tight tight vuol dire è stretta è fattilo eh questo è tuo si vede è tight ma adesso non volete che io cucino non mi aiuto più cucino io Masterchef bong va bene? va bene come abbiamo fatto ieri? io sono chef che che non so che cosa è? no è che test sei una assaggiatrice ah assaggia solo mangia solo si mamma mia che casino che fai allora abbiamo fatto questo quanti pesi ha più o meno questa? non ho contato uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici undici due livelli più o meno trenta trenta pesi ah wow ah per me è abbastanza per due giorni domani faccio faccio cucinare metà quindici cinque per me cinque per Sophia cinque per la mamma e l'altra pila la Raisa e lei sempre in dieta non puoi niente ok ok continuiamo a cucinare adesso mettiamo questo uno due tre quattro cinque sei quattro questo è più bello quella l'olio deve essere caldo caldo così così si cuoce bene la nostra non primavera ah no primavera primavera pura ah ecco perché primavera perché dentro è verdura e invece questo è carne è vero? sì ecco la scepe la scepe è stanca allora cucino io ci vuole cinque minuti? dipende dipende? ma sarà come fuoco e buon fuoco si deve cuocere radiantamente perché la carne è dentro è tutto ah ok adesso mi sa ora da girare guarda 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 che bella che questo è questo uh hai girato male questo così questo così come volcano il riso come volcano guarda 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 hai visto? tra un po' tira quella fuori e mettiamo nel piatto con con la carta si 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 tadaaaan ok adesso è arrivato la master chef dai penso io fai te come va la testa? fa male ancora? passa? è passato già? se non lo faccio io dai uguale perché ridi? perché? secondo te? perché? perché? perché rido? non ti fido di te ahah ecco perché rido perché lei non ti fai cucinare questa roba ahah e dai voglio giocare questa questa una ha fatto la scipia vero? si si ha fatto si vede quella quella si vede piccola l'ho detto deve essere stretta infatti ho visto un po' aperta si apre ahah quanto bella e poi mettiamo un po' di ketchup e poi si mangia con un po' di riso un po' di riso si sta facendo ancora quello lì e poi facciamo insalata insalata anche wow ah comunque abbiamo messo la carta così almeno questa carta qua per absorvere l'olio l'olio il sesso ah ok così il secondo batch secondo come si chiama batch secondo piano secondo piano ahah ahah second floor lascia lì nelle piatti così almeno l'olio absorba un po' questa è l'ultima piano piano perché perché l'olio è cotto un po' volente volente hai sbagliato altra volta l'olio ha di pazienza non parla bene italiano l'olio l'olio è buonente l'olio è buonente un po' un po' di pomodoro l'olio ha messo qui piano piano se non cade sopi no e basta insalata dei pomodori come va basta è cucinato io è buona no voto quanto è voto lo voto io 10 per te l'ha fatto mamma però aspetta 10 per te 10 per mamma 10 per te poi ho cucinato l'olio olio ha riscaldato l'olio ma tanto c'è sempre lo stesso sapore l'ha bruciato l'olio ok buon appetito buon appetito buon appetito